Innamorati di tutte le età e da tutto il mondo, pellegrini soprattutto nel giorno di San Valentino a Lucignano, dove viene custodita un'opera unica al mondo. Protetto in una teca di cristallo tra le mura del museo comunale, si trova infatti il famoso albero d'oro, portafortuna che suggella le promesse d'amore di tutte le coppie. E proprio per celebrare San Valentino nel borgo della Valdichiana, con fesercenti nell'ambito del progetto Vetrina Toscana, porterà i visitatori alla scoperta dei segni d'amore. Una visita guidata in uno dei borghi più belli d'Italia, tra le luci del tramonto, alla scoperta della sua storia e delle sue curiosità, accompagnati dalla melodia di un violino, ed infine, davanti all'albero d'oro, tutti i presenti potranno scambiarsi o rinnovarsi una promessa d'amore. L'opera d'arte ha avuto una vita travagliata e forse proprio per questo è diventata simbolo dell'amore duraturo. Realizzato tra il XIV e il XV secolo, alto circa 2,60 metri, è uno dei monumenti più straordinari dell'oreficeria italiana, realizzato in oro, argento, coralli e pietre preziose. Solo recentemente è potuto tornare alla sua originale interezza, grazie al ritrovamento di 18 pezzi mancanti da parte del nucleo Carabinieri per la tutela dei beni culturali di Firenze e il conseguente restauro affidato all'opificio delle pietre dure.